Il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, ha assistito all'inizio delle procedure di demolizione dell'oculi abusivi e al rischio cedimento della sezione 252 del cimitero dei Rotoli di Palermo, avviata con una picconata simbolica data da uno degli operai. È stata una delle tappe del sopralluogo istituzionale dell'ex presidente della regione, all'interno del cimitero, nel quale da pochi giorni è cessata l'emergenza a bare, che si protraeva da oltre tre anni e che ha richiesto la nomina da parte dello stesso Musumeci di una struttura commissariale operativa da gennaio per far fronte all'accumulo di un migliaio di bare in attesa di sepoltura. L'amministrazione comunale di Palermo ha fatto in sei mesi quello che non è stato fatto in sei anni. L'impegno era categorico. Il primo atto che ho compiuto da ministro per la protezione civile è stato proprio la dichiarazione di una condizione di emergenza e quindi la messa a disposizione dell'amministrazione comunale, della gestione commissariale per andare in deroga alla normativa vigente, una risorsa finanziaria di 2 milioni di euro e una scadenza di un anno. Credevo che un anno potesse essere sufficiente. Mi sono sbagliato. In sei mesi sono riusciti a fare davvero miracoli. Tutti gli assessori, i tecnici. Intanto il ringraziamento al ministro per la sua presenza ma anche per la intuizione del commissariamento che ci ha consentito di accelerare quelle azioni che si sono rese possibili grazie all'impegno dell'assessore, della giunta con lui e ovviamente di tutti gli operatori, le funzioni comunali, la reset, tutti quegli uffici e quelle articolazioni che hanno generosamente contribuito al conseguimento di questo risultato, che non è il risultato finale perché ancora sono necessarie tante opere di riqualificazione e ristrutturazione di questo come degli altri cimiteri cittadini. Speriamo nella prossima settimana di poter attivare così ad entro luglio il forno crematorio. Oggi forniamo un'ulteriore affermazione della legalità procedendo all'inizio delle operazioni di abbattimento di 72 sepolture abusive.